Lenis Bacher è il primo leader del Tour de Slovacchia 2016 Il corridore della Parco Hotel Valkenburg è il più veloce nel brevissimo prologo della rassegna classificata 2.2 dall'USI chiudendo i 1100 metri in 1 minuto e 25 secondi Buon piazzamento per gli italiani Matteo Maluccelli e Filippo Fortin che chiudono rispettivamente in 1.27 e in 1.28